Dall'autospalla all'autodolore è il titolo della mostra dedicata a Giacomo Balla ed esposta nella Galleria Arcofarnese di Roma. Nato a Torino Giacomo Balla si trasferisce ancora giovane nella capitale dove diviene in riferimento il maestro dei più promettenti artisti dell'epoca introducendo come momento di rottura avanguardistica con la pittura ufficiale la tecnica del divisionismo attraverso lo studio della luce, della fotografia, dei meccanismi della visione egli sviluppa una pittura di straordinaria innovazione dai tagli originalissimi e inediti nell'arte europea di quel periodo tra i fondatori nel 1910 insieme a Boccioni, Carrà, Severini e Russolo del futurismo pittorico egli prosegue l'indagine sulla luce associata al movimento realizzando uno stile assolutamente originale indipendente da quello dei suoi compagni a partire dal 1915 sintetizza la sua visione in campiture di colore puro con andamenti cromatici che compenetrano line spezzate e curve in una sintesi di rumore e velocità tra i promotori dell'aereo pittura Balla continua a dipingere opere futuriste fino ai primissimi anni 30 quando torna con decisione a una pittura di lucidissima figuratività dominata dagli effetti di trasparenza e cangiantismi Giacomo Balla muore a Roma nel 1958 dall'autospalla all'autodolore è esposta alla galleria Arco Farnese a Roma in via Giulia 180 ed è aperta tutti i giorni esclusi i festivi e lunedì mattina dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20 fino al 15 gennaio Grazie a tutti